I tirocini extracurriculari potranno proseguire in presenza anche con le restrizioni della zona rossa. Lo stabilisce la nuova ordinanza del presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsiglio, firmata anche dall'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, alla luce delle decisioni assunte in sede di conferenza delle regioni in materia di tirocini extracurriculari. Sulla materia infatti è stata avviata una interlocuzione tra governo e regioni per stabilire una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Alcuni passaggi del testo e l'assenza di alcune indicazioni puntuali in materia di politiche formative, ha detto l'assessore Pietro Quaresimale, rendono difficoltosa e potenzialmente disomogenea sul territorio nazionale la corretta applicazione delle misure. Da qui la decisione che la regione Abruzzo ha fatto valere con forza in sede di conferenza delle regioni di stabilire che i tirocini non curriculari possano realizzarsi in presenza, fermo restando che potranno essere realizzati ricorrendo anche a modalità a distanza in tutti i casi nei quali le specificità dei contesti e le specificità degli obiettivi lo consentano.